Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi torneremo indietro nel tempo in questa recensione più precisamente nel 1989 perché andremo a scoprire insieme il Game Boy Color che venne lanciato appunto in quell'anno ma ovviamente subito dopo la sigla La retroprova del Game Boy Color che ho acquistato, usato da un sito tedesco se volete poi vi lascio il link in descrizione comunque veramente in ottime condizioni e l'ho scelto in questa colorazione Crystal Purple perché praticamente come vedete si vedono i componenti interni e era una cosa che mi piaceva ma andiamo a parlare un po' della storia del Game Boy Color allora il Game Boy Color il successore del primo Game Boy diciamo quello classico che abbiamo in mente tutti aspettate qua ho un libro diciamo fatto da Nintendo che però ci può ricordare far vedere come era il primo Game Boy eccolo qua venne lanciato nel 1988 quindi dieci anni dopo nel 1998 arriva Game Boy Color chiaramente cosa migliora del primo Game Boy beh come dice il nome Color chiaramente ritroviamo un display LCD realizzato da Sharp da due pollici e mezzo diciamo a colori quindi la possibilità di riprodurre moltissimi colori quindi il gioco diciamo diventava più coinvolgente rispetto al primo Game Boy che aveva solo delle tonalità di colore quindi praticamente avendo uno schermo diciamo con uno sfondo verde risaltava il nero ma appunto se andiamo a guardare poi le caratteristiche interne comunque vabbè ha un processore da 8 MHz una run di 32 Kb quindi in confronto alle console di oggi è veramente pochissimo ma comunque i giochi insomma le varie cartucce che per il Game Boy Color erano come vedete questa cartuccia specifiche se erano per il Game Boy Color trasparenti così da riconoscerle immediatamente ma era possibile anche riprodurre cartucce del Game Boy originale senza problemi comunque appunto stavo dicendo girano tutti perfettamente poi abbiamo una cassa qua che riproduce l'audio ovviamente i tasti A e B le frecce Start e Select e sopra anche una porta infrarossi con cui era possibile comunicare tra diversi Game Boy solo in giochi specifici che però nei Game Boy successivi venne rimossa forse per la sua quasi inutilità tutto il sistema è diciamo viene insomma abbiamo due batterie AA che lo alimentano ecco oppure è possibile utilizzare il cavo da 3 Watt che non era insomma per collegarlo alla corrente quindi utilizzarlo senza le pile chiaramente però bisognava essere in presenza di una di una di una porta per la corrente e anche qui viene migliorato diciamo il design più diciamo fottile se si può dire questo rispetto a quello originale e anche la presenza di sui due batteri rispetto alle quattro dell'originale quindi decisamente un passo avanti ne vennono vendute ben 48 milioni di copie e ne vennono rilasciate diverse diciamo versioni appunto questa è una versione speciale oppure erano con colori diciamo pastello diciamo interi quindi giallo verde blu diciamo quelli lì classici vediamo cosa cosa posso dire ancora insomma per la mia esperienza ecco un difetto che venne poi risolto successivamente ma diciamo non subito da da nintendo fu la retroilluminazione perché lo schermo che vedete qua non è retroilluminato quindi è possibile vedere ciò che stiamo giocando solo quando abbiamo una luce diretta che colpisce il display e questa è un po' diciamo una debolezza di questo nintendo perché c'è chiaramente al buio è impossibile vedere vi confermo ciò a cui stiamo giocando deve esserci diciamo molta luce oppure della luce diretta sul sul display quindi vennero create al tempo diciamo delle luci che venivano alimentate da questa porta qua che vedete che diciamo così andavano ad illuminare lo schermo e quindi diciamo ci permettevano di giocare anche in situazioni di scarsa luminosità cosa vi posso dire diciamo giocare al gameboy color diciamo dopo molti anni mi fa pensare però che c'è veramente è ancora molto utilizzabile anche perché appunto avendo lo schermo a colori e tutto il resto cioè non sembra neanche una console di di così tanti anni fa diciamo quindi in questa retroprova appunto ho voluto portarvi un po' indietro nel tempo e provare insieme questo gameboy per magari quelle persone che non l'hanno mai avuto non sapevano magari della sua conoscenza o che l'hanno avuto e quindi possono confermare diciamo quindi vi vi invito a scrivermi sotto nei commenti se anche voi avete avuto il primo gameboy o il gameboy color oppure i successivi gli advance diciamo quelli più lunghi il micro insomma ne sono stati fatti tanti prima del del DS diciamo che conosciamo tutti spero che il video vi sia piaciuto mettete un mi piace al video condividetelo iscrivetevi al canale visitate il mio sito andreadrudeveloper.it vi lascio il link in descrizione come anche tutti i link per iscrivervi alle mie pagine facebook instagram twitter e anche il nuovo canale telegram per ricevere le ultime notizie del mio sito direttamente su vostro telefono con una una notifica e ci vediamo in un prossimo video inoltre fatemi sapere se anche voi avete un gameboy color un gameboy diciamo originale oppure dei successivi scrivetemelo nei commenti e sarò felice di rispondervi e di e di vedere se avete avuto anche voi un gameboy